Per il comparto rappresenta un ulteriore ostacolo a lavorare tranquilli perché oltre ai problemi della sicurezza anche questo rappresenta un altro ostacolo che ci impedisce di lavorare in maniera soft. Dopo l'ondata di furti il comparto Arafo Aretino deve fare i conti anche con un altro ostacolo, un nuovo balzo nel prezzo dell'oro. Mi preoccupa molto perché come ho detto più volte il prezzo alto, più o meno alto, comunque si provoca dei rallentamenti ma la cosa drammatica sono le oscillazioni, quindi quando da un giorno all'altro c'è uno sbalzo di 3 euro come è successo questa settimana è chiaro che ti si bloccano tutte le spedizioni, quindi c'è un ulteriore aggravante nel nostro settore. Stamattina era 72,50 quindi vediamo un po' che cosa succede. Oscillazioni che inevitabilmente rallentano tutto l'indotto e la clientela internazionale. Le esportazioni del distretto Arafo Aretino, il più importante d'Europa, rappresentano infatti il 30% di quelle toscane. Per ora si posticipano le spedizioni, quindi ti chiedono i clienti di aspettare magari una settimana e vedere l'andamento del prezzo. Il comparto negli ultimi mesi è finito anche ciclicamente nelle mire dei banditi, una situazione che aveva destato la tensione fra le mille aziende del settore. Un allarme portato ieri al Viminale dove è stata affrontata la questione sicurezza. E' proprio da Roma l'annuncio da parte dello stesso Ministero dell'Interno del potenziamento dell'attività investigativa con l'invio di un dirigente del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Io ho avuto la sensazione di vicinanza e di supporto importante e quindi che il governo voglia dare un segnale forte di vicinanza al settore.